Una deliziosa crema vegetale con delicato aroma di vaniglia. Mescolare cocco grattugiato, latte di cocco, zucchero, maizena e vaniglia in una ciotola. Scaldare la ciotola a bagnomaria, mescolando finché la crema si addensa. Lasciare raffreddare la crema e trasferirla in frigorifero per almeno due ore. Servire la crema fredda in coppette e guarnire con scaglie di cocco tostate. Assaporare questa deliziosa crema di cocco alla vaniglia con una spolverata di cacao.